Da sempre abbiamo cercato di avere quello che non possiamo permetterci. Raramente ci siamo riusciti. Adesso finalmente è possibile! Semplifica i tuoi affari. ASAP Markets. Iscriviti gratuitamente al sito. Acquista i tuoi bids. I bids sono rilanci fissi per aggiudicarsi l'oggetto all'asta. Prenota i tuoi acquisti cliccando su Bid. Tutti i prodotti partono da un centesimo. Ogni prenotazione fa crescere il valore dell'oggetto di un centesimo. Le aste si dividono in due fasi. Fase iniziale e Final Rush. La fase iniziale è di prenotazione. Il Final Rush è di acquisto vero e proprio. Si passa al Final Rush quando l'asta raggiunge il prezzo minimo indicato nella scheda del prodotto. Ai Final Rush può partecipare solo chi si è prenotato nella fase iniziale. Ci saranno solo pochi secondi per puntare e aggiudicarsi il prodotto. Se non hai voglia di puntare, puoi comunque acquistare subito il prodotto a un prezzo incredibilmente scontato. Ma non è tutto. Hai speso tutti i bids senza aggiudicarti nulla? Non c'è problema. Puoi sempre acquistare nell'ASAP Shop tanti altri prodotti, semplicemente convertendo i tuoi bids inutilizzati in punti. Con ASAP Markets non resterai mai a mani vuote.